Dalla California alla vecchia Inghilterra, dall'Italia alla Germania, quelli della setta aumentano, le loro grida si fanno altissime, hanno sempre più sete di sangue, perché il grande momento è giunto. Guarda, musica, le fiamme divantano, tutto questo è per te. E così tu sei pazzo per i Rolling Stones? La loro musica è solo per pochi, quando hai capito i loro messaggi puoi riuscire a cogliere qualcosa di più profondo. Si occupa di musica? Di religione, se così si può dire. La religione aiuta a vivere meglio, giusto? Aiuta a morire. Hanno un profondo significato religioso, sono il simbolo della fertilità e del male. No! Sono tuo padre! No! Io pronuncio le parole. Io giro la chiave! No! Una realizzazione di Dario Argento It's had been locked away for centuries, trapped deep inside it's ancient prison, but now, the time has come for the ultimate evil to rise again. a venire in questo mondo per che possa spostare un nuovo terror per che possa possere un figlio innocente per concevere il suo figlio e quando lei ha dato il suo solo figlio il nuovo prince avrà un'armia di scuola in una guerra nemmeno e avrà la fine battle per la soul di tutto il mankind in una guerra nemmeno the devil's daughter watch this is for you what's happening to me you have been chosen I have come to give you that greater light why did you disobey Mary the time has come when the son of the rebel will become flesh and blood and will abandon God no 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 Argento presenta la Waxmasca. Il deve essere qualcosa di furchtare. Il deve essere qualcosa di furchtare. Alle artisti strebano alla Perfettione. Perfetto, non ci sono? Perfetto, non ci sono? Perfetto, non ci sono? Il mio figlio è un Wahnsinniger. Io devo rimanere, per quanto riguarda il rischio. Sì. Sì. Io vorrei una nuova scena con la mia vita. Si è già già in tanti vermi. Mi ho visto solo la mano per metallo. Si stai a tutto. Se ti asciera qualcosa di tutto. Se prende i un'altra scuola per la mia vita. La Wachsmaske, la visita della angstia. Mia! What kind of lunatic could be responsible for this? La Wachsmaske, la visita della scuola. 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 La visita della scuola. La visita della scuola. Barbaramente uccisa una settimana fa. Di che frammento si tratti? Ce l'ha svelato definitivamente questo foulard. Stretto attorno alla gola di Carol Pellissier. Che come la sua compagna presentava tracce di violenza carnale. Se qualcuno di voi ricorda di aver veduto qualcosa di simile Al collo di un compagno di un'amica, Sappia che suo preciso dovere dirlo. Spero siate tutti d'accordo che questo assassino debba essere tolto dalla circolazione E che almeno in un caso come questo vogliate considerare la polizia per quello che è Uomini che vi difendono Dopodiché potrete continuare tranquillamente a prenderci assassate per le strade Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Enter the bizarre world of the psychosexual mind Torso Rated R